La signora Danuta Hubner non è la moglie del famoso centravanti del Cesena che faceva gol negli ultimi minuti, io mi ricordo quasi come Altafini e Cesarini, ma è la commissaria europea alla politica regionale. Polacca, stile asciutto, molta concretezza, pochi fronzoli, ottima competenza sulla materia, lei sta riformando la politica di coesione e va a toccare con mano i primi risultati, quindi si muove in tutta Europa e in questi giorni sarà di nuovo in Italia, incontrerà prima la giunta regionale della Puglia e poi la giunta regionale della Basilicata, le forze socio-economiche, oltre che esponenti del governo nazionale e parlamentari europei, avrò il piacere anch'io di essere partecipe di questi incontri. La signora Hubner troverà un contesto in cui le ombre sembrano primeggiare, il sud è piegato sulle ginocchia dalla questione dei rifiuti, poi c'è le vicenze giudiziarie campane siciliane e poi anche le difficoltà di queste ore del governo. Tuttavia le condizioni formali per iniziare a spendere l'enorme budget, l'enorme dote finanziaria messa a disposizione dall'Europa per l'Italia, per le regioni del sud, ci sono tutte, il piano nazionale e i piani regionali sono stati approvati recentemente e così pure la carta degli aiuti. Il governo italiano ha unificato la programmazione dei fondi europei e dei fondi nazionali per le aree sottosviluppate e ha potuto confezionare così un pacchetto di risorse che supera nei sette anni 2007-2013 i 100 miliardi di euro. Ha quindi delineato il governo nazionale i macro obiettivi di spesa conferendo giustamente priorità alla ricerca, all'innovazione, alle infrastrutture, alle politiche attive del lavoro, allo sviluppo sostenibile, al capitale umano, alla cultura, al turismo. E le regioni hanno predisposto a loro volta i europeani introducendo in alcuni casi delle innovazioni sicuramente interessanti nel senso della selettività e della concentrazione della spesa. Abbiamo anche un ministro, non voglio dire avevamo, abbiamo ancora un ministro della Repubblica, l'onorevole Bersani, che ha detto e ha scritto in un'intervista a chiare lettere i soldi europei vanno spesi in modo selettivo, altrimenti meglio restituirli a Bruxelles. Ed io ho condiviso questa dichiarazione di Bersani. E dunque che cosa aspettano la signora commissaria Rose e Fiori, aspettano la signora commissaria Hubner? Assolutamente no. Primo perché le regioni sono ancora alle prese con la spesa del preresso. Su Agenda 2000 residuano somme non trascurabili che vanno spese entro questi mesi e la cui certificazione di spesa va inviata a Bruxelles prima che scatti la scure del disimpegno automatico. E temo che in alcuni casi si tornerà al ricorso deprecato e deprecabile dei progetti Spond. secondo motivo perché stende a delinearsi un management amministrativo e un metodo organizzativo che governi il nuovo ciclo 2007-2013 senza dover rincorrere le scadenze e senza dover ricorrere ai predetti progetti Spond anche in questa nuova fase. Da ultimo perché la necessità di spostare un bel po' di risorse sui progetti multiregionali come io sostengo da tempo, acqua, energia, ambienti, innovazione, grandi reti che non si possono fare soltanto in una regione ma che coinvolgono più regioni. Tendenza questa su cui convergono i più e giustamente, ma su questa tendenza ai noi non c'è un punto stabile di governance. Da questo punto di vista una cabina di regia di carattere nazionale centrale potrebbe probabilmente essere opportuna, a patto che questa non sia un modo per privare le regioni delle loro legittime prerogative, ma che anzi sia costituita proprio dalla conferenza dei presidenti delle regioni in raccordo con il governo nazionale. E' necessario, infine voglio lasciare questo messaggio, capire se le politiche di coesione di cui parleremo con la commissaria Hubner possono e debbano essere politiche per la crescita, oltre che per la convergenza. Perché lo siano esiste principalmente un problema di bilanciamento tra tempi brevi e tempi lunghi dell'esito di queste politiche stesse. Se si guarda all'esito di tali politiche soltanto dal punto di vista dei tempi immediati e quindi orientati al consenso, questi sono certamente molto votati al breve, dunque alla distribuzione. E questo è un guaio. Allora è necessario che vi sia una responsabilità politica di visione, maggiormente orientata alla strategia più che alla tattica quotidiana e quindi più che al risultato dell'immediato. È una forte concentrazione quindi su obiettivi davvero strutturali, nel senso della selettività meritocratica, che riguardi sia gli enti pubblici, faccio un esempio, non diamo soldi a chi non fa la raccolta differenziata, ma diamoli a quei comuni virtuosi anche nel campo dei rifiuti. E sia il campo dei privati, sosteniamo le imprese che investono in ricerca, innovazione e internazionalizzazione e che ci mettono del proprio. La nuova programmazione, cari amici, nella sua fase attuativa necessita di una forte regia politica e di una fortissima assunzione di responsabilità da parte di chi ha la missione di migliorare il benessere dei nostri cittadini.